Buongiorno a tutti, davvero emozionante questa storia di Luna Rossa, abbiamo preparato per voi un'agenda veramente ricchissima per cercare di valorizzare al massimo il tempo che ci avete dedicato, quindi ancora una volta vi vogliamo ringraziare per essere qui così numerosi a questo nuovo Macut Live. Per farlo abbiamo pensato di parlare di quello che è il tema cardine di tutte le sessioni a cui assisterete, ovvero il tema della competitività e di come migliorarla. Ci troviamo in un ambito estremamente competitivo, la competizione si è spostata dalla scala locale direttamente a scala globale. C'è quindi bisogno di rimanere sempre competitivi perché il punto vero è che se non lo facciamo noi comunque lo stanno facendo i nostri diretti concorrenti, quindi la palla nel nostro campo, dobbiamo continuare a farlo. Possiamo trovare un sacco di motivazioni per non farlo, sono molto semplici. Questo però non è una scelta vincente, non è una scelta vincente perché non ci permette di mantenere quella che è la nostra posizione o di migliorarla. Bisogna quindi essere pronti al cambiamento perché nessuna innovazione è possibile se non uscendo da quello che è la propria comfort zone per riuscire a fare dei passi ulteriori verso qualcosa di nuovo. Non prendere veramente questa sfida è un qualche cosa di estremamente pericoloso. Vi faccio vedere qualche dato per riflettere. L'età media delle aziende che all'inizio degli anni 40 facevano parte del Fortune 500 americano era di circa 80 anni. Questa età si è ridotta a meno di 20 attualmente. Questa vuol dire che la competizione è veramente guerrita, soltanto i migliori riescono a rimanere sul mercato. Ci sono nomi famosissimi che si sono affacciati sul mercato che non esistevano fino a pochissimi anni fa e altri nomi che sembravano immortali, che hanno subito una sorte non felice, in mezzo a chi ha saputo continuare ad innovare. Quindi cosa fare? Quindi come procedere? Beh, in un ambiente così competitivo è strategico il fatto di riuscire ad avere un approccio globale a quello che è l'idea dei nostri prodotti. Non dobbiamo più considerare i nostri prodotti unicamente dal punto di vista tecnologico, ciò che di meglio riusciamo a fare, ciò che di meglio la tecnologia ci mette a disposizione e sfruttarlo. Non dobbiamo considerarlo unicamente dal punto di vista del business, come faccio a ottenere il miglior margine, come rendo sostenibile il mio business, o soltanto dal punto di vista utente, ovvero quali sono i desideri dei nostri clienti fidali, che cosa vorrebbero da noi, che cosa si aspettano. Soltanto mettendo a fattore comune tutti questi elementi è possibile ottenere quella che chiamate experience innovation, fornire un qualcosa di differente rispetto a quello che esiste sul mercato, coinvolgere i nostri utenti finali. Sentite come è un tema che ricorre durante tutta questa sessione. Questo significa una cosa sola, mettere attorno al tavolo più attori in modo da riuscire a prendere decisioni migliori, tenere in considerazione aspetti più a 360 gradi che consentano di ottenere prodotti più centrati per i nostri clienti, far sentire il cliente al centro di quella che è la nostra progettazione delle soluzioni. Quello che vogliamo evitare in questo modo è ciò che avviene purtroppo molto spesso, ovvero il fatto che durante lo sviluppo del nostro prodotto si generano delle condizioni tali per cui ci sia bisogno di continui rework, quindi ritornare sui propri passi in modo da portare correttivi a seguito di una controprova fisica o reale che si è andata a realizzare. Questo chiaramente ha un impatto pesantissimo dal punto di vista dei tempi e dei costi. Quello che spesso accade quando si incontra un problema durante il tragitto e lo si vive come un difetto del prodotto, in realtà ha alla base un difetto di comunicazione, quindi la comunicazione ancora una volta ha un ruolo cruciale. Quello che vorremmo riuscire a fare, quello che è auspicabile che tutti facciano è quello di riuscire a anticipare quelle che sono le problematiche nella fase più concettuale dei nostri progetti, mettendo appunto attorno allo stesso tavolo più attori e in questo modo far emergere molto più rapidamente l'idea migliore tra le tante che ci sono a disposizione. Questo è esattamente uno dei concetti sui quali si basa tutta la suite di prodotti conceptual, riuscire a valutare più soluzioni allo stesso tempo più rapidamente e mettere attorno allo stesso progetto più attori dal punto di vista dell'analisi, da qualsiasi punto di vista ci possa servire in modo da riuscire a centrare poi dopo il nostro prodotto. Quali sono gli abilitatori che rendono questo possibile? Beh, fondamentale, il primo abilitatore è la vision dell'azienda. Bisogna essere convinti di volerlo fare. Questo è strategico, l'abbiamo detto prima. Non innovare vuol dire metterci in una posizione di difficoltà rispetto a tutti i nostri concorrenti, che magari lo stanno già facendo. Al giorno d'oggi innovare non è un'opzione, è una necessità. Quindi questo lo darei come un dato di fatto. Il secondo fattore è un fattore tecnologico, ovvero essere pronti a sfruttare ciò che la tecnologia continua a metterci a disposizione, con un ritmo sempre più rapido. E terzo fattore, il know-how. Le competenze che mettiamo a disposizione delle soluzioni che andiamo a implementare.